Ciao a tutti e bentornati su questo canale, io sono TheWhiteJack e oggi siamo qui con lo Zao, incrociatore giapponese di tier 10. Nave sicuramente molto potente, non solo perché è una nave di tier 10, ma anche di per sé ha delle statistiche veramente interessanti ed è stato anche baffato ultimamente. Infatti gli sono stati dati i siluri da 12 km e la penetrazione delle sue secondarie da 100 mm è stata aumentata, visto che sono gli stessi cannoni presenti su Kitakaze, Akizuki e Arogumo, la cui penetrazione appunto dei cannoni da 100 mm è un quarto e non un sesto. Nave che è presente da tantissimo tempo in gioco, è una delle più vecchie navi presenti, ma anche diciamo una vecchia gloria, è sempre stata una buona nave capace di fare molto danno e anche adesso sicuramente è ancora una nave molto valida e che per l'appunto è anche stata baffata recentemente, forse anche quasi troppo perché è veramente molto ma molto forte. Prima di parlare però delle sue altre statistiche in gioco e di com'è questa nave in generale, parlerei un attimo della sua storia. Nave che in realtà non è mai esistita, quindi stiamo parlando di un progetto semplicemente, faceva parte di una classe di incrociatori chiamati Type A 1941 che doveva essere costruito ma per mancanza di risorse è stato sempre rimandato, sempre più avanti, sempre più avanti, fino a che sostanzialmente il progetto si è perso nel tempo e hanno abbandonato quest'idea. Incrociatori che dovevano essere estremamente flessibili, estremamente potenti, con una corazza capace di resistere ai cannoni da 203 mm, resistente anche alle bombe, veramente dovevano essere super incrociatori in un certo senso, simili a quella che era l'idea dietro la Yamato, di fare una corazzata che potesse battere tutte le altre corazzate, questi incrociatori dovevano essere sostanzialmente dei super incrociatori, molto resistenti, con un sacco di potenza di fuoco, questi 12 cannoni da 203 mm, in più anche supportati da 10 siluri giapponesi per lato, quindi un armamento davvero molto ma molto potente e anche un'ottima corazza, abbinati anche a un'ottima manovrabilità perché queste navi raggiungono i 35 nodi. Comunque per l'appunto è tutto rimasto in fase di progetto perché non sono mai state costruite. Passiamo quindi a quello che è il gioco, visto che qui effettivamente almeno sono presenti e sono sicuramente delle navi molto forti. Tra l'altro queste navi, anzi questa nave, parliamo proprio della Zao, poteva anche essere chiamata in altri modi, cosa che secondo me è interessante e la VG ha deciso di chiamarla Zao, però potremmo anche vederla con il nome di Senjo oppure Unzen, che erano gli altri nomi pensati per questa nave. Comunque parliamo di quelle che sono le sue statistiche. Che cos'è bello di questa nave? Quali sono i suoi punti di forza? Innanzitutto parliamo subito dei cannoni. Sono 12 cannoni da 203 mm e sono estremamente potenti. I proiettili di questa nave sono veramente fantastici. Sono cannoni completamente diversi dai 203 mm che troviamo sugli incrociatori giapponesi precedenti. Quindi non hanno niente a che vedere con quelli di Furutaka, Aoba, Miyoko, Mogami, i buchi. Sono completamente altri cannoni. Sono cannoni con la canna più lunga, con proiettili diversi, più pesanti e ben più veloci. Infatti abbiamo sui 840 m al secondo come velocità del proiettile per le navi precedenti, quindi i buchi, eccetera, eccetera. Mentre invece qui sullo Zao arriviamo fino a 920 m al secondo di velocità del proiettile. Quindi un incremento veramente esponenziale di quella che è la velocità del proiettile, che significa che è molto più facile colpire i bersagli, anche perché questi proiettili appunto come dicevo prima non sono semplicemente più veloci, ma sono anche più pesanti. Quindi più veloci e con una ritenzione della velocità migliore perché per l'appunto il loro peso è maggiore. Quindi molto facili da mirare e in più anche molto potenti. La ricarica di questa nave è lenta, siamo sui 13 secondi circa, quando magari altri incrociatori dello stesso tier possono arrivare attorno agli 8 secondi o 7 secondi e mezzo. E poi vabbè abbiamo navi come il Des Moines che magari hanno 5 secondi e 5 di ricarica per dire. Quindi la ricarica è sicuramente lunga, ma è controbilanciata da un alfa veramente elevato, perché abbiamo ben 12 cannoni, quindi un numero elevato di cannoni e dei proiettili che hanno l'alfa per i cannoni da 203 mm più alta che ci sia. Sappiamo che gli HE giapponesi sono gli HE con l'alfa più alto, praticamente rivaleggiano un po' con quelli inglesi sulle battleship, però per l'appunto sono con un alfa molto elevato e con una percentuale di incendio davvero alta. Infatti qui ogni singolo proiettile sparato dallo zao ha più del 20% di possibilità di incendio e abbiamo 12 proiettili che spariamo ogni 10 secondi. Quindi molto probabilmente incendieremo il bersaglio, causando quindi poi danni nel tempo, o se non incendiamo il bersaglio, comunque se i nostri proiettili possono penetrarlo, se non ha un sacco di corazza, se magari non andiamo a colpire proprio l'esatto punto di una corazzata di tier 10 in cui è piena di corazza, che ne so ad esempio sulla belt, penetreremo e faremo davvero molto danno perché abbiamo appunto un alfa molto elevato. Infatti come avete potuto vedere anche all'inizio di questo video, che stavo sparando a qualche corazzata, le salve erano da 5.000 circa di danno a ogni salva. E poi appunto il danno viene anche supportato da quelli che sono gli incendi che questa nave riesce ad applicare molto facilmente. Il concealment tra l'altro è un'altra cosa bellissima di questa nave e che aiuta la potenza di fuoco, visto che abbiamo 9.7 km di concealment, quindi riusciamo benissimo ad andare stealth quando vogliamo. Se vogliamo continuare a sparare ad una nave, magari incendiarla, spegne, continuare di nuovo a sparare per incendiarla di nuovo, mettere 1, 2, 3 incendi e poi magari disingaggiare perché altrimenti potremo prendere troppo danno. Possiamo benissimo farlo perché con i nostri 9.7 km di concealment è molto facile disingaggiare e anche avvicinarsi magari in segreto a certi bersagli che vogliamo colpire magari più da vicino. Anche perché gli HE non sono gli unici proiettili buoni di questa nave, visto che finora avevo parlato solo di HE e parliamo anche dei suoi AP, che molte persone tendono a dimenticare che sono buoni, ma in realtà sono AP estremamente pesanti, addirittura più pesanti dei proiettili AP super pesanti del Des Moines e che volano a una velocità di 920 ms, quindi proiettile estremamente pesante con un sacco di velocità significa che ha anche un sacco di energia cinetica, quindi un sacco di penetrazione. Cosa che è facilissimo vedere, infatti quando qualcuno dà il fianco a questo incrociatore rischia di prendersi tantissimi danni, gli incrociatori rischiano veramente di sparire perché sono tanti proiettili veloci con un sacco di penetrazione e con un alfa anche molto elevato perché sì, a questi proiettili non manca niente, anche l'alfa degli AP è davvero molto molto elevato. Quindi, ottimi cannoni in tutto e per tutto, l'unica cosa brutta è la ricarica e la rotazione un po' lenta delle torrette ma che si può un attimo sistemare prendendo Expert Marksman. La mimetizzazione è molto buona, 9.7 km di concealment. Continuiamo a parlare dell'armamento, parliamo dei suoi siluri. Siluri che sono siluri giapponesi, quindi estremamente potenti come ben sappiamo. Adesso sono disponibili in due formati, nel formato da 8 km che è quello che la nave ha avuto negli ultimi anni. Quindi siluri molto molto veloci perché sono i siluri da 8 km giapponesi, gli F3, estremamente veloci però ovviamente 8 km significa che siamo in una situazione di combattimento estremamente ravvicinato. Gli altri siluri disponibili invece sono quelli da 12 km e sono praticamente gli stessi disponibili anche su lo Shimakaze che è l'incrociatore di tier 10 giapponese e che vive sostanzialmente dei suoi siluri per cui pensate quanto sono buoni i siluri dello Zao che di per sé è un incrociatore pesante ma che ha a sua disposizione per parte 10 siluri del DD che dovrebbe essere più forti di tutti a livello di siluri. Quindi veramente un sacco di potenza a livello di siluri oltre che a livello di cannoni certo la ricarica è estremamente lunga per questi siluri ma poco importa insomma vanno utilizzati un attimo con cautela poi comunque non sempre saremo in range per tirare questi siluri quindi quando ne capita l'occasione li utilizziamo però abbiamo pur sempre i nostri cannoni principali estremamente potenti con cui fare un sacco di danno non per forza dobbiamo andare a utilizzare i siluri nonostante siano per l'appunto molto buoni l'unica cosa che non è molto buona di questi siluri come dicevo all'inizio di questo video sono gli angoli di tiro i siluri sono messi in fondo alla nave proprio sulla poppa non so se riuscite a vedere qui dal video però sicuramente guardando nel porto potrete benissimo vedere dove sono sostanzialmente sono incastrati praticamente sui lati della poppa della nave molto vicini quasi al timone sostanzialmente il che ne limita fortemente la possibilità di tirarli verso la parte anteriore della nave il che ci costringe praticamente a dare completamente il fianco quando vogliamo tirare i siluri se vogliamo tirarli a qualcuno davanti a noi oppure utilizzarli soltanto nei momenti in cui siamo noi a starci ritirando dal combattimento oltre a questo ora arriviamo a parlare di un altro tipo di armamento e cioè l'armamento contraereo l'armamento contraereo non è poi granché questo diciamo è il difetto di questa nave parliamo di una nave giapponese di per sé sappiamo che le navi giapponesi in gioco non sono poi granché a livello contraereo sono state sempre un po' rivaleggiate in questo con gli americani all'inizio c'erano giapponesi e americani dove gli americani avevano un sacco di potenza antiaerea e magari delle stat minori da altre parti i giapponesi magari avevano un sacco di potenza per esempio sui cannoni eccetera eccetera però la potenza antiaerea invece era abbastanza scarsa e appunto la zao non è particolarmente dotata a livello di antiaerea la antiaerea medio raggio è ok non è nulla di che volendo si può andare a potenziare però l'antiaerea a lungo raggio se non mi ricordo male il danno dell'antiaerea a lungo raggio di questa nave è 125 quindi andando a prendere manual per rendere più forte l'antiaerea a lungo raggio potenziare raddoppiare il danno che fa l'antiaerea a lungo raggio di questa nave arriviamo ad avere 250 di danno utilizzando poi il consumabile per la difesa antiaerea andiamo a triplicare questo danno il che ovviamente può portare a delle situazioni in cui il carrier nemico che ci sta attaccando e che si aspetta di attaccare una nave giapponese che appunto generalmente sono poco munite a livello di antiaerea si ritrova in realtà a affrontare una nave con una difesa antiaerea che almeno per la durata del defensive fire è sicuramente importante il che ovviamente può portare ad abbattere parecchi aerei della cv nemica che non se lo aspetta perché alla fin fine un giocatore di porta aerei tende a non attaccare magari navi come un demoin cioè vede un demoin dice va bene non lo attacco cioè ci giro attorno perché tanto so che fine fanno i miei aerei non attacco un minotaur perché so che fine fanno i miei aerei so che è forte ah guarda una zao aspetta che la attacco però appunto andando a prendere il consumabile per la difesa antiaerea e utilizzando poi anche la skill manual per l'antiaerea potreste avere un ottimo livello di antiaerea e quindi riuscire sia a difendervi che in un certo senso a stupire il carrier nemico ovviamente questo richiede punti richiede 4 punti solo per prendere la skill manual per l'antiaerea quindi insomma vedete voi se vale la pena fare questa spesa oppure no e in più vi impedisce di utilizzare l'hydro però comunque questa nave è più una nave da seconda terza linea non proprio da prima linea non siete quelli che vanno in scontri ravvicinati col nemico anche perché come vi dicevo prima non riuscite a utilizzare per esempio i vostri siluri perché hanno degli angoli di tiro che sono pessimi in un certo senso per cui è una nave da seconda terza linea io in questa battaglia stavo utilizzando l'hydro perché lo sto utilizzando in setup da clan battle sto facendo qualche partita di prova a vedere di trovarmi un po' con la nave per utilizzarlo in quel tipo di modalità ma in random vi consiglierei appunto di utilizzarlo con il consumabile per la difesa antiaerea perché è una nave sprovvista a livello di difesa antiaerea e sicuramente avere il defensive fire in quelle situazioni occasionali in cui trovate il carrier sicuramente può esservi utile anche perché insomma sappiamo tutti che ora c'è in corso il rework delle carrier per cui se va a buon fine e arriva sul live server sicuramente ci saranno molte più persone che vorranno provare le carrier se magari ne esce un bel rework magari tante persone giocheranno le carrier per cui insomma nel prossimo periodo potrebbe esserci un ritorno abbastanza consistente di CV in partita non come ora in cui è veramente difficile a volte trovarne una per carità dipende dai giorni dipende da che eventi ci sono in corso eccetera eccetera però ultimamente trovare delle porta aeree in partita è cosa abbastanza rara perché non sono in molti a giocarle abbiamo detto quasi tutto di questa nave dobbiamo parlare di un altro suo difetto che è la quantità di HP la quantità di HP come potete vedere anche in questo momento è semplicemente attorno ai 40.000 quindi sicuramente è bassa rispetto ad altri incrociatori di tier 10 abbiamo 10.000-15.000 HP in meno quindi gli HP sono veramente pochi se commettete dei gravi errori se state di fianco con questa nave e vi prendete delle citadel rischiate di morire molto velocemente perché prendere delle citadel da battleship di tier 10 che quindi hanno un alfa molto elevato significa che praticamente perderete magari metà vita o anche tutta direttamente però il trucco con questa nave è angolarsi perché la Zao ha un'ottima corazzatura è famosa la troll armor dello Zao perché questa corazza è talmente particolare ha un ponte molto resistente la corazza generale non è che sia granché ma sul ponte ha una corazza particolarmente resistente ha un po' di tartube eccetera eccetera che vi permette spesso e volentieri di rimbalzare qualche colpo in più molti colpi in più rispetto a quelli che dovreste rimbalzare normalmente o comunque un incrociatore fatto solo da 25 mm o da 27 mm rimbalzerebbe e che vi salverà la vita parecchie volte quindi finché la nave resta bene angolata o comunque in movimento perché questo è un incrociatore da movimento è lì è proprio l'incrociatore da movimento quindi muoversi continuamente andare a destra e a sinistra stare a range dal nemico anche perché questa nave è molto veloce 35 nodi ha un'ottima manovrabilità quindi nave molto manovrabile gli hp sono pochi ma la corazza è molto buona quindi generalmente è una nave che secondo me è buona un po' in tutto anche perché in questo momento carrier come vi dicevo ce ne sono poche quindi il suo difetto della mancanza un po' di antiaerea si sente poco o niente concealment che è ottimo ottimi siluri ottima potenza di fuoco certo un po' pochi hp ma basta saperli gestire quindi sicuramente secondo me è una nave molto forte molto buona è una delle mie preferite a me piacciono molto gli incrociatori da movimento quindi sicuramente l'incrociatore proprio per antonomasi da movimento e che è da anni anni in gioco è lo zao e davvero mi piace moltissimo da quando l'ho sbloccato mi fa molto piacere giocarlo questo è tutto quindi per questo video spero che vi sia piaciuto vi lascio in sovraimpressione quelle che sono le build consigliate per questa nave quali moduli utilizzare un altro dettaglio che riguarda i moduli se volete questa nave ha anche un buon modulo leggendario quelli che potete sbloccare giocando molto con questa nave quindi vi toglie un po' di range perché normalmente va utilizzata con range questa nave però vi dà quella manovrabilità extra e quella precisione aumentata dei cannoni che vi permette magari di fare andare a segno uno o due colpi in più e quindi di aumentare ancora di più il vostro alfa vi rende praticamente veramente un cecchino con un alfa molto elevato quindi se volete c'è anche quel modulo da andare a prendere detto questo però per oggi è veramente tutto spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciate un mi piace ricordatevi di iscrivervi al canale fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate o se c'è qualcosa che vorreste vedere e noi ci vediamo nei prossimi video ciao 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 ciao